Ciao a tutti, sono El e benvenuti al mio canale. Oggi vi parlo delle differenze tra la seconda stagione di Bridgerton e il libro da acquistato tratta, ovvero Il Visconte a chi mi amava di Giulia Queen, il secondo della saga Bridgerton, composta da otto libri. È pubblicata dalla Mondadori, nel caso se volete acquistarla potete trovare i link relativi nella descrizione del mio video. Nel caso poi vi interessi tanto l'argomento Bridgerton, mi raccomando, date un'occhiata al resto del mio canale e iscrivetevi perché è un argomento che sia l'anno scorso che quest'anno sto trattando in lungo e in largo. Ma torniamo al tema, allora, quali sono le differenze? Sono tantissime, in particolare dall'episodio 4, di fatto la serie tv creata da Chris Van Dusen ha semplicemente ripreso i capisaldi del libro, ovvero Anthony, il fratello maggiore della famiglia Bridgerton che decide che deve sposarsi e inquadra come futura sposa Edwina Sheffield nel libro Sharma nella serie tv che è la sorella minore di Kate Sheffield barra Sharma, una ragazza che non ha intenzione di sposarsi o comunque non ha questa prospettiva e invece fa di tutto per difendere la sorella perché ha capito che Anthony è un tizio che probabilmente non amerà la sua adorata sorellina e la farà soffrire. E quali sono quindi le differenze? Allora innanzitutto nel nel libro non c'è alcuna proposta di matrimonio di Anthony ad Edwina, questa è la differenza più eclatante che parte già dall'episodio 4 della serie tv perché Edwina non è invaghita di Anthony, anzi nel libro quando scopre che Anthony e Kate finiranno insieme è felicissima, aveva già capito che fra la sorella e quest'uomo che sembrava interessato a lei c'era molta chimica. L'interesse che Anthony dimostra per Edwina nei libri è veramente molto vago, anzi appena le parla sembra subito rendersi conto che è perfetta come moglie nel senso che sarà decorosa, brava, tranquilla ed era lui questo è il tipo di rapporto che desiderava, molto distaccato, non c'è un momento in cui si percepisce che i due potrebbero stare bene insieme, l'unica volta che parlano parlano del tempo, non sanno bene di che parlare e Edwina finisce per notare nel libro dico che Kate assomiglia parecchio a quest'uomo qui, anzi cioè che Anthony somiglia molto a Kate, quindi non abbiamo affatto una Edwina nei libri che è devastata all'idea che la sorella sposi questo visconte anche perché Edwina non aveva questo desiderio, così come viene espresso nella serie tv, di diventare viscontessa, non gliene importava granché, lei voleva solo trovare qualcuno che sistemasse economicamente la famiglia e inoltre Kate era molto protettiva nei confronti della sorella ma non così prepotente, nella serie tv praticamente decide lei chi deve parlare con la sorella, c'è questa scena in cui i pretendenti si mettono in fila e lei decide quando e come farlo entrare nella stanza in cui c'è Edwina, non c'è assolutamente nulla del genere nel libro, Kate è stata, non si è auto eletta protettrice della sorella ma è stata insignita di questo ruolo da Edwina stessa che in pubblico ha dichiarato che si fiderà del giudizio della sorella per decidere quale sarà il suo futuro marito proprio perché sa che Kate ha un caratterino ostico, quindi la croce, il grosso problema che abbiamo nella serie tv che c'è questo matrimonio che sta per avvenire addirittura in pratica sull'altare Anthony abbandona Edwina o meglio Edwina abbandona Anthony ma perché di fatto si rende conto di che cosa c'è tra la sorella e il futuro marito non esiste assolutamente nel libro e questa è una cosa che Bridgerton si è inventato per conto suo per creare più dramma e di conseguenza il libro dal circa il 60-70% in poi ci racconta del matrimonio di Anthony e Kate, non abbiamo quindi due che finiscono insieme solo negli ultimi dieci minuti dell'ultima puntata è proprio, c'è tutto uno svolgimento del loro matrimonio nella serie tv viene menzionato che Kate ha paura del temporale però è solo una scusa insomma per farla andare in biblioteca e farle capire un po' meglio il problema di Anthony nel libro invece, scusate, Kate ha decisamente un trauma legato ai temporali legato alla morte della madre e non merisco a Mary ma della sua madre biologica è una cosa piuttosto drammatica, un po' esagerata che la serie tv ha abbastanza intelligentemente deciso di non riprendere perché era un po' inverosimile e anche il trauma di Anthony era molto diverso nella serie tv Anthony non vuole cedere all'amore perché ha visto la maniera in cui l'amore ha devastato la madre dopo la morte di Edmund una madre che si stava lasciando andare e quindi Anthony non desidera essere visitato da questo miracolo nella libro invece il suo trauma anche qui è abbastanza inverosimile però ha a che fare con la morte del padre Anthony in realtà nei libri è un ragazzo maturo fin dai 18 anni ovvero da quando perde il padre non immaginatevi l'Anthony che avete visto nella serie tv Anthony è un ragazzo che prende subito le redine della famiglia che calma la madre che nell'immediatezza della morte del padre manda a dormire i fratelli e si occupa di tutto lui da quel momento in poi però rimane fortemente segnato dalla morte di questo padre che lui adorava in ogni maniera possibile perché gli aveva insegnato a essere la persona che era e siccome rimane tutta la notte a guardarlo morto rimane a guardare il cadavere lui se ne esce con l'idea la mattina dopo che non riuscirà mai a superare la grandezza del padre e quindi siccome il padre è morto giovane probabilmente anche lui morirà giovane anzi è convinto che a 38 anni l'età in cui il padre è deceduto morirà anche lui e quindi per questo decide nel libro poi di sposarsi a 29 anni perché sa di non avere troppo tempo ed è anche il motivo per cui decide di trovare una moglie di cui non si innamorerà mai perché non diventa troppo complicato se si innamora di sua moglie e inoltre vabbè l'amore è una cosa che quasi nessuno trova perché dovrebbe accadere proprio a lui e infatti l'Anthony del libro non ha mai avuto questa grande cotta per Sienna come nella prima stagione di Bridgerton in verità non c'è nessuna Sienna rosso nel libro c'è una Maria rosso che è semplicemente una tizia una come tante altre con cui lui è stato fra le tante donne con cui è stato quindi Bridgerton ha deciso di creare una trama proprio abbastanza alternativa e ora dopo che abbiamo parlato dei protagonisti parliamo un po' di tutti gli altri prima di tutto di Mary Mary che nel libro non è affatto figlia di nobili che è stata diseredata perché si è sposata con un mercante qualunque Mary al contrario era probabilmente una signorina di campagna a suo tempo non era niente di speciale a livello familiare era il padre quello che aveva un pochino più di denaro Mary era stata già sposata una volta prima di sposare il padre delle ragazze e poi decide appunto di fare da matrigna a Kate ma questo è uguale parliamo degli altri personaggi allora Eloise di fatto nei libri non ha assolutamente tutta l'importanza che ha nella vita della famiglia fino a praticamente il quinto libro si vede è una delle sorelle è molto divertente si vede che è molto arguta e infatti per un certo momento qualcuno pensa che potrebbe essere lei Lady Whistledon ma non sta assolutamente debuttando nel momento in cui debutta in questa seconda stagione non è così ostica come la vediamo nella serie tv nei libri rimane Zitella usiamo questo orribile termine per rimanere in accordo con quello che veniva raccontato all'epoca non rimane Zitella fino a 28 anni per sua scelta una scelta che la madre non sembra subire ma che quasi sembra appoggiare perché capisce che la figlia è uno spirito diverso dalle altre non si è innamorata e quindi Violet non la verrebbe mai costretta il rapporto tra Violet e la figlia è molto diverso nella serie tv sembra che Violet voglia spingere Eloise a essere come tutte le altre ragazze che non capisca questa figlia che si oppone in continuazione non troverete nulla del genere nei libri nei libri Violet è una madre molto comprensiva verso i figli fiera di Anthony non lo criticherebbe mai come fa nella serie tv ed Eloise appunto non è la femminista moderna chiamiamola così anche se in realtà io ho molte critiche verso questo personaggio che vedete nella serie tv Netflix parliamo di Penelope Penelope era Lady Whistledown già dai 17 anni nei libri più o meno quindi come nella serie tv e a livello di aspetto fisico veniva detto che era in carne aveva circa uno stone detto così in inglese in più del suo peso forma sarebbe un 12 kg all'incirca però si trattava di grasso infantile quindi già nella sua seconda stagione che potremmo dire che è questa lo ha perso e ha perso un po' di peso esattamente come nei libri viene vestita malissimo dalla madre e quindi si sente sempre un po' disagio è silenziosa viene un po' sbinuita dalle sorelle che però non sono assolutamente così sono un po' scemotte un po' come lo è Prudence ma anche la madre è scemotta la madre non a Portia Featherington non è protagonista di tutti gli interrighi che vedete nella serie tv anzi nei libri Portia Featherington non è neanche una lady è semplicemente la signora Featherington perché il marito non era un lord era un mero mister e quindi non c'è assolutamente tutta la storia di chi sarà il nuovo lord Featherington perché il padre viene a malapena menzionato figuratevi che adesso non mi ricordo neanche se fosse vivo in questo momento all'inizio nella prima parte della saga di Julia Quinn so che in seguito non c'è più però è una cosa è proprio un personaggio diverso Portia se non fosse che è una pettegola del diavolo non finisce affatto invischiata negli scandali che vedete nella prima stagione di Bridgerton con Marina Thompson che per esempio non c'entrava nulla con questa stagione viene menzionata per la prima volta nella saga della Queen solo nel quinto libro e adesso per non farvi troppi spoiler non ve lo dico con precisione perché però finisce proprio come nella serie tv sposata a un certo Sir Philip Crane e ha due figli Amanda e Oliver quindi questo è uguale poi il suo destino sarà diverso insomma Marina viene a malapena menzionata nei libri per pochissimo è un personaggio del passato di Sir Philip nei libri mentre nella serie tv ha proprio avuto una sua storyline tutta una sua personalità parliamo di Colin Colin nei libri non è assolutamente il tontolone che è nella serie tv non si innamorerebbe mai di una ragazza come Marina che lo incastra è molto acuto sempre con la battuta pronta ne capisce una più del diavolo e non si mette neanche a frenzonare Penelope non sono così amici non si scrivono semplicemente lui non la nota più di tanto ma lei sta simpatica lei gira un po' intorno perché insomma lui nei libri almeno è bellissimo e quindi lei lo concupisce però in quella maniera molto timida da ragazza adolescente che non ha il coraggio di proporsi anche perché non si crede alla sua altezza quindi è una storyline differente e nei libri si scopre chi è Lady Whistledown molto più in là mentre qui e nessuno sembra così interessato a scoprire tutta questa sottotrama di dei personaggi Eloise in particolare che cercano di capire chi è Lady Whistledown non esiste nei libri si menziona che tutti sono curiosi di conoscere la sua identità però non c'è una storyline che con cui si va alla ricerca della vera identità di Lady Whistledown quindi Penelope vive nella sua segretezza abbastanza serenamente se non nel libro dedicato a lei e a Colin il personaggio della regina la regina non viene menzionata neanche di striscio nei libri perché è un personaggio che si è completamente inventata la serie tv probabilmente per rifarsi al personaggio storico della regina Anna? credo che si chiamava Charlotte vedete non mi è neanche rimasto impresso insieme alla regina quindi nei libri non c'è neppure l'assegnazione del titolo di Diamante che è tanta importanza nella serie tv Bridgerton perché il titolo di Diamante esiste di incomparabile esiste nell'alta società nobiliare inglese anche nei libri e in generale in tutti i romanzi Rosa Regency ma è un titolo non ufficiale nel senso sarebbe semplicemente il nome che si dava allora a quella che è la hit girl la ragazza del momento quella che viene considerata da tutti quanti più bella ma non è che arriva qualcuno o la regina che dice ok tu sei il diamante dipende solo da lei no dipende dall'opinione di tutti e non dà particolari vantaggi privilegi o la possibilità di essere vicina alla famiglia reale non c'è nulla di tutto questo nei libri credo di aver detto più o meno tutto Benedict Benedict è più o meno uguale che si fa i fatti suoi un po' come nella nella serie tv vuole diventare pittore non c'era minimamente nel caso l'accenno al fatto che lui potesse avere gusti bisex come sembrava un po' nella prima stagione c'era stato un po' di teasing in questo senso però per il resto più o meno è uguale tutto quanto è solo che appunto Bridgerton la seconda stagione ci racconta proprio una sua storia facendo riferimento come vi dicevo ai protagonisti a partire dall'episodio 4 con Anthony e Kate che si desiderano ma non negano così tanto i propri desideri da addirittura ingannare non volendolo però di fatto facendolo quella povera innocente di Edwina Edwina nei libri si trova addirittura un altro uomo e non un principe come si lascia intendere nella serie tv ma uno studioso perché a lei piaceva gli uomini era un po' una nerd le piacevano gli uomini che studiavano studiosi e quindi una volta che è libera dall'idea di dover essere lei a portare i soldi in famiglia ha la libertà di innamorarsi di chi le pare e alla fine nel futuro diventerà una mera signora Bagwell così si chiama quindi non una futura principessa e appunto lei non è ha avuto il suo momento di gloria come diamante della stagione quando era giovane ma sinceramente si vedeva che non le importava molto era semplicemente una brava ragazza che è rimasta umile molto diversa quindi dal personaggio descritto nella serie tv e questo è tutto come vi dicevo se volete saperne di più ho mille video su Bridgerton in cui purtroppo esprimo un parere molto critico sulla serie tv non solo per tutte queste differenze ma proprio perché considerate le nuove idee che hanno avuto secondo me non hanno sviluppato quelle al meglio o hanno scelto una deriva che non mi ha particolarmente gradita però a ognuno il suo questo era un video informativo che alla fine è durato molto più di 10 minuti però molto meno dei soliti video che registro e se guardate le durate degli altri capirete un po' meglio vi è piaciuto questo video immaginavate che la serie tv fosse più simile al libro già lo sapevate fatemi un po' sapere spero di avervi dato qualche informazione che vi possa essere utile alla prossima se decidete di guardare altri miei video ciao ciao